Il virus fa meno paura, ma la curva dei contagi da Covid-19 cresce in Campania. 3.505 i positivi nelle ultime 24 ore risale al 14,13% il tasso di incidenza, 7 le vittime, mentre cala il numero dei ricoveri ospedalieri e dei malati in terapia intensiva. Contagi sempre alti anche in Irpinia, 175 i nuovi positivi registrati, 30 nel capoluogo. Il Sannio resta nella top 10 delle province con più casi, altri 190 i nuovi positivi nel Beneventano. Situazione tranquilla all'ospedale Sampio, stabilmente sotto 30 i pazienti ricoverati. Intanto anche in regione cresce la preoccupazione dopo la comparsa in Italia di alcuni casi di vaiolo delle scimmie. Le ASL territoriali però rassicurano i cittadini. Per il vaiolo delle scimmie non ci dobbiamo preoccupare, la malattia è con bassissima attività di contagio, di diffusione. Teniamo la sorveglianza attiva su tutto questo, i casi probabilmente precedentemente non c'era la stessa attenzione per rilevarli. È qualcosa che è completamente sotto controllo, non c'è da preoccuparsi in questa fase. Il vaiolo delle scimmie rimarrà dunque un fenomeno contenuto. Non ci aspetta una replica del Covid, però dobbiamo sapere che probabilmente ottobre-novembre potrebbe ripartire qualcosa. Speriamo che abbiamo un vaccino adeguato, nuovo, che si possa somministrare eventualmente insieme ai vaccini anti-influenzali e rientrare nella gestione ordinaria della protezione delle malattie a trasmissione aeree.